Il tumore benigni al midollo Sono finita quindi in carrozzina Sono rimasta sulla carrozzina circa dal 2007 al 2011 Ecco, Sea Brace mi ha potuto effettivamente aiutare Perché soffro di una lieve spasticità Ma grazie alla pompa di infusione questa viene fortemente ridotta Inoltre ho una paraplegia incompleta della gamba destra Dunque il mio modo di vivere è cambiato Nel senso che adesso posso uscire con il mio cane Senza dover sempre guardare dove metto i piedi E dove posso passare No, con il Sea Brace non ho più bisogno di pensare Cammino semplicemente E ad esempio ora in spiaggia Dove con la carrozzina non riuscivo in realtà ad arrivarci bene Posso ora addirittura avvicinarmi all'acqua Può fare una passeggiata lungo la spiaggia Per me nella mia vita è ancora importante esplorare il mondo Sono contenta poi di uscire di nuovo in centro con i miei amici E di fare shopping Per me nella mia vita è ancora importante esplorare il mondo